Lo indico sempre come base della corsa, ma questa quota non lo giocherei a 8 a 6, invece proverei abbastanza contentamente Talete Deimar. Secondo me è se troppo avviene questa corsa. Ma a me... Se è stato male, sono per tre seghe. Va bene. La macchina che si mette in movimento è il campo partente. 1 Tom Cruise, Treb, Roberto Vecchione, 2 Max Rod, Paolo Pietropauli, 3 Sir Drake, Giorgio D'Alessandro Senior, 4 Talete Deimar. Giovanni Palanga, 5 Raul Fermo, Alessandro Lezzo, 6 Trezeghe, Q Enrico Bellei, 7 Sassuolo, Davide Di Stefano. Con calma... no, la prende lanciata. La prende lanciata Trezeghe, Tom Cruise, Treb, con calma Talete, con calma Sassuolo, parte piano anche Trezeghe. E davanti ci va Sir Drake, o perlomeno ci prova, all'attacco di Max Rod. Terza posizione per Raul Fermo, poi Talete, Deimar. Un bocco della prima curva con in vantaggio Sir Drake, che precede Max Rod. Largo tra Sir Drake e risale, lo anticipa Talete Deimar. Sir Drake al comando, Max Rod, che anticipa Talete Deimar. E si affaccia su Sir Drake. Poi ci ripensa e torna sotto. E allora è Talete che va su Sir Drake, il quale però allunga. In corda c'è Raul Fermo, poi allargo Trezeghe, ancora Tom Cruise con allargo Sassuolo. Il passaggio ai primi 600 metri in 45,6 sul mio cronometro. Gruppo disposto in doppia fila lungo l'arco della penultima curva con Sir Drake al comando. Talete all'esterno in corda Max Rod. Allargo Trezeghe, 1,2 e mezzo agli 800. Terza posizione allo steccato per Raul Fermo, i cavalli che vanno sulla retta opposta alle tribune. Si affaccia in terza Sassuolo, perlomeno accenna a farlo. E intanto i mille iniziali di Sir Drake in 1,17. Talete, Deymar, allargo di Sir Drake. In corda c'è Max Rod, allargo c'è Trezeghe, chi lo schermo non cambia. Quando si va verso l'imbocco, la curva conclusiva con Sir Drake che sta aumentando la cadenza. E affronta in vantaggio il passaggio ai 400 conclusivi all'esterno. Sempre Talete che è seguito da Trezeghe, lungo lo steccato Max Rod. Siamo all'ingresso della retta di arrivo. Sir Drake che va via a gambe elevate. Talete, Deymar all'attacco. In terza lo scatto di Trezeghe. Più allargo anche Sassuolo. Talete, Deymar che passa di forza su Sir Drake. Arriva Trezeghe. Trezeghe all'attacco di Talete. Talete, Trezeghe sul palo. Ancora Talete su Trezeghe. Talete, gran percorso. Tutto aria in faccia per Talete, Deymar. Con Giovanni Palanga in salchia al training. Passa su Sir Drake. Oggi è veramente molto molto ben centrato questo Talete, Deymar. 5,54 la quota del totalizzatore. Il tempo nell'ordine del 15,6. E qui le battute finali con Talete che si salva sul palo da Trezeghe. Vediamo sul filo. Il distacco che è di... Sì, un corto muso come il ristorante dell'ippodromo. Il terzo posto è... Se lo giocano ma forse è per Tom Cruise Dreb che forse stampa Sir Drake. È tutto. Lì alla regia. Il termino è per Tom Cruise Dreb. Grazie a tutti.